Ciao a tutti ragazzi, venuti ad iniziare l'avventura di Tupolino, inizia da Bresista. Tupolino, inizia da Bresista 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 Grazie a tutti. 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 Bene, sta caricando. Speriamo sia bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui il paperina per il paper news network. Sono qui con il nostro fortunato capo Oswald e con l'eroico Topolino. Allora amici. Speriamo il paperina per il paperina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ci vediamo la prossima. Ok, ci vediamo la prossima. Ok, ci vediamo la prossima volta.